Buongiorno, buon inizio di giornata a tutti voi, sono le 7.30, questo è Occhio ai giornali, naturalmente sono già pronti sul nostro touch screen, però prima di guardarli insieme vediamo che santo è oggi e poi le previsioni del tempo, oggi giovedì 9 luglio, Santa Veronica Giuliani, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.52, giornate ancora tanto lunghe e ancora con temperature importanti, oggi forse ci sarà una tregua di questa AFA che attanaglia da giorni tutta la nostra provincia e tutta l'Italia, 26 gradi in questo momento e l'umidità è un'umidità importante, 66%, vediamo come si presenta il cielo in questo momento, vedete, bello terzo, però insomma con un po' di foschia all'orizzonte, allora vediamo cosa ci prospetta la giornata di oggi per quanto riguarda le previsioni della protezione civile, vedete compare la simbologia nella nostra provincia di una nuvolosità, è importante anche la pioggia, quindi cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio è prevista un'attenuazione delle coperture nel settore costiero collinare, miglioramento generalizzato nella sera, però sono presenti brevi rovesci sparsi in mattinata nel settore centro-settentrionale della regione, quindi insomma il nostro quadrante rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane, però sui rilievi, quindi fenomeni un po' più intensificati, le temperature giustamente per effetto della pioggia sono in diminuzione, vediamo domani, domani è una giornata dal punto di vista meteorologico molto stabile, molto lineare, sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, le temperature però grazie a Dio saranno in diminuzione, però vedete sole pieno nella immagine che ci mandano e anche per sabato, vedete sole pieno su tutta la costa, quindi si prospetta un bel sabato di mare per gli amanti di questa pratica, cielo sereno, poco nuvoloso e precipitazioni assenti. Vediamo le tendenze, quale saranno per i giorni a seguire, tempo soleggiato sulle marche, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana con temperature in aumento e quindi insomma perlomeno il weekend sulla carta è assicurato sul bello. E il tempo è l'AFA, è l'argomento insomma che tiene banco in queste ore, in questi giorni e emergenza anche per gli ospedali. Apriamo la pagina del resto del Carlino che focalizza molto su due belle pagine, quello che è successo soprattutto a livello degli ospedali di Fano e di Pesaro, senza condizionatori, reparti bollenti, l'ospedale rimedia con i portatili, quindi con i ventilatori, Fano e Pesaro stesso problema, lungo degenza trasferita in geriatria, reparti bollenti. Il dirigente dice abbiamo attivato un sistema provvisorio per ristabilire un microclima adeguato, vedete nella foto c'è proprio un ventilatore a ridosso di un paziente e questi sono gli impianti che sono andati in tilt perché il caldo aumenta del 30% gli accessi al pronto soccorso di Pesaro e Fano e quindi insomma oltre all'emergenza c'è anche proprio l'accesso, l'afflusso maggiore. Vedete anche nelle foto qui ci sono sicuramente immagini molto eloquenti di pazienti che si sventolano, questi sono gli accessi al pronto soccorso, lo slalom delle infermiere quindi avviene tra i ventilatori, però un parente di un adegente fa un esposto alla direzione sanitaria, quindi la protesta dei malati, refrigerazione bloccata per i lavori non ultimati a maggio, le neomamme, per noi faticoso agitare di continuo il ventaglio anche se è l'unico sollievo. Di notte la situazione è insopportabile, i rimedi portatili risolvono solo in parte il problema perché insomma il disagio sicuramente è notevole, aggiunto anche alla condizione di malattia e di sofferenza. Altre pagine sempre da peso del resto del Carlino su un problema sul quale spesso si ritorna, ovvero sia l'accheraggio, i virus virali, i troian oppure insomma le varie tipologie di virus che si possono trovare. In questo periodo è un flagello perché qui c'è proprio Marco Nucci, il titolare di una rivendita di computer che dice sono giorni in cui riceviamo decine e decine di segnalazioni per virus attaccati, virus veicolati e là qui in alto c'è l'icona del l'accher. Ma qual è il risvolto? Che arriva un messaggio e parte un vero ricatto sui pc infettati, paga 400 euro o non riavrai più i tuoi dati. Centinaia di vittime in città, pochi denunciano, è un fenomeno dilagante. Come avviene il pagamento con questi bitcoin? Per pagare bisogna seguire le istruzioni che compaiono sul video. Allora il tecnico ci suggerisce se sulla vostra posta appare l'annuncio di un pacco, non cliccate su quell'icona, perché può essere proprio un vero pacco, in tutti i sensi, nel senso che vi manda in tilt il tilt il computer e anche la Dusbev difendetevi dalle truffe. C'è un piccolo bademecum su come fare. Pagine ancora del resto del Carlino però che riguardano Fano e la storia di un dottore, Antonio Dottori, ex primario, che ha deciso di dedicare la sua vita all'aiuto, alla sua missione in Ecuador, al Mato Grosso, Salmonella, all'ordine del giorno, a fianco appunto dei malati. Antonio Dottori va lì e porta la sua opera. Un altro medico, Antonio Scardino, dice aprirò un ambulatorio al confine con la Siria per aiutare quella parte di mondo veramente fragellata in questo momento. Ancora dalle pagine del resto del Carlino un messaggio del Vescovo che dice insomma la speranza viene da una coscienza etica, messaggio alla diocesi da parte del Vescovo e insomma l'elemento umano è un elemento importante. Se chi detiene il potere è saggio, questo potere negli altri produce sicurezza. E poi ancora, riprese alcuni passaggi del suo discorso, la consapevolezza. Chi è davvero consapevole della sua dignità non agisce alla leggera. Compleanno, gran festa a famiglia Nova, i cent'anni di nonno Bruno. Guardate questa immagine qui dove lui guarda orgoglioso la sua torta perché giustamente arrivare a tagliarla è un bel traguardo. E poi di fianco il pasticcere Stefano Ceresani, il maestro pasticcere Ceresani che ci regala sempre novità in grande profusione, la sua fantasia, il suo estro creativo è veramente impagabile e ha creato un sorriso, un dolcetto da regalare ai turisti o a quanti ne vogliano gustare le prelibatezze, il sorriso di Fano. Quindi anche Fano ha la sua particolarità. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, che riguardano un po' le pagine interne, siamo a Pergo, l'ospedale tanta qualità e molti problemi di personale. Il neoconsigliere regionale Francesco Federico Talè ha visitato il nosocomio. E poi i rifugiati di Saltara, accordo fatto, vedete il sindaco che stringe la mano al prefetto, protocollo firmato ieri in prefettura, obiettivi quali sono dopo gli accordi raggiunti a Pesaro e Fano, ecco un altro importante traguardo, anche loro daranno una mano a Saltara. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico per un fatto di cronaca, i carabinieri hanno arrestato i banditi di Colbordolo, ad aprile rapinarono una tabaccheria smascherati dalle telecamere, sempre importante la videosorveglianza per dare una mano agli investigatori e quindi in questo caso è stata determinante la visione dei filmati e questo sicuramente ha vantaggio soprattutto sulla rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine. Ancora nella pagina di Fano del Corriere Adriatico, focus sul porto, qual è la situazione? A settembre, lo dice Seri, fa una promessa, a settembre ci sarà il dragaggio del porto, intanto la Giunta approva un progetto da quasi 2 milioni, quindi emergenza fanghi verrà affrontata in questo modo e quindi in alto poi una notizia di cronaca dove trova spazio la tragedia di un pensionato che sparandosi un colpo di fucile al petto muore. Ha ritrovato la moglie, lo ha ritrovato la moglie, il tragico gesto dovuto alla convinzione di essere gravemente malato. Scendiamo a fondo pagina perché si parla di permessi in ZTL, controordine, non costano 10,5 ma 36 euro, anziché 10,50 euro, 36 euro. Il Comune ricontatta i possessori e chiede a loro di pagare quanto manca. Ancora dalle pagine del Corriere vanno seguite le norme, siamo sempre all'ospedale di Pergola, Cigil, Cisle, Marche e Ceriscioli, delibere mai applicate e ritardi dell'area vasta. Questo è da Pergola e poi la Capitaneria di Porto in azione a Marotta, imbarcazione in avaria, ha salvato un diportista pesarese. Ancora dalla testata del messaggero che è l'ultima che guardiamo, anche qui focus sull'ospedale, giorni di fuoco per i reparti ancora disagi per la mancanza di aria condizionata, sono arrivati apparecchi portatili, intanto il sindaco Ricce chiede spiegazioni alla direzione, anche a Fano la situazione permane critica, fotonotizia dei carabinieri che hanno arrestato i rapinatori, mascherati, vedete qui ci sono delle maschere che usavano per occultare la loro identità, profughi al lavoro e a Saltara e quindi anche come sempre la pagina del meteo ci dice, il meteorologo Massimiliano Fazzini che affa il peggio è passato. Speriamo perché anche qui come vedete il titolo eloquente, ospedale, un girone infernale riprendendo una riascalia dantesca per la canicola, canicola sospesa la bonifica dell'ex AMGA, anche il caldo ferma, anche le bonifiche rapinavano in maschera le tabaccherie e quindi dopo mesi di indagini i carabinieri hanno arrestato chi sono due cognati. Ultima pagina quella di Fano, sempre del messaggero, si parla di edilizia, congelati gli oneri per l'edilizia e il motivo è quello di dare una spinta a questo comparto talmente tanto vessato da questa crisi che dal 2009-2010 non lascia l'economia e sarebbero dovuti aumentare fermati dal Consiglio. E poi Isabel, mamma e impiegata, sarà sindaco per un giorno, la quarantenne persi scelta da seri, chi vuole si faccia avanti, chi vuole provare il mestiere di sindaco per un giorno per vedere quali sono le dinamiche, che cosa succede in una giornata da sindaco, vivere questa esperienza, insomma qui a Fano è possibile grazie a questa iniziativa. E poi fuori piccolo la tredicenne che ha rischiato di annegare in quella piscina condominiale, quindi buona notizia. e anche qui in fondo pagina due notizie che riguardano, una appunto quella del Vescovo, il suo messaggio, non si può avere una società con coscienze deformate e appunto il gesto estremo del pensionato che teme di essere malato e si spara. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ricordo che questa sera ci sarà Primo Cittadino, quindi l'incontro con Massimo Seri in diretta qui a Fano TV dopo il telegiornale, se volete rivolgervi le domande potete contattare la nostra redazione e quindi rivolgergli direttamente le domande, quindi questa sera Primo Cittadino dopo il telegiornale. Per la Rassina Stampa è tutto stamattina, buona giornata e buon proseguimento a tutti voi. Grazie a tutti.